Eccoci, preparatevi. Se infatti nella puntata di oggi dobbiamo a un certo punto riprendere le fila di quello che sta succedendo tra Israele e territori palestinesi, con ancora altri territori di altre nazioni coinvolte, ci sono due cose che vale la pena di commentare e che almeno un po' esulano dal discorso. La prima è un report che ci informa che la transizione energetica non sta andando poi così male, e la seconda ci riguarda da vicino, come italiani ne stiamo discutendo tutti, e dei problemi che il Luca Comics sta avendo con il patrocino dell'ambasciata israeliana. Partiamo da questo. E partiamo ovviamente da lui. Zero calcare. Quanto non abbia bisogno di presentazioni, ci tengo comunque a far notare come non sia solo uno dei fumettisti più famosi in Italia, ma anche un artista molto attivo da un punto di vista sociale, che da sempre utilizza le sue esperienze personali di vita come uno spunto per discorsi più ampi su questioni di attualità. Ricordo ad esempio uno tra tutti, Kobane Colling, che era un vero e proprio reportaggio a fumetti della sua esperienza diretta tra i difensori cordi del Rojava. Che però, attenzione, perché questa cosa va detta essere il filo conduttore dell'intero editoriale? Non ci va da giornalista, Zero calcare a Kobane, ci va come persona affine ai kurdi, come simpatizzante dei kurdi, ci va come attivista, ci va come individuo, quindi non come un punto di vista esterno e soprattutto non come un punto di vista obiettivo e super partes. E questa è la questione, che qui stiamo parlando di un artista, non di un giornalista. E quando diciamo documentario, certo, certamente. Ma non è un reporter di guerra. Non è un reporter. Tutto questo per dire che non mi ha sorpreso per nulla la sua scelta di non partecipare alla fiera del Luca Comics a causa del patrocino israeliano. E non solo non mi ha sorpreso, ma la ritengo anche una presa di posizione legittima. E questo, attenzione, senza neanche entrare nel merito del patrocino in sé, ma semplicemente perché si tratta, dal punto di vista di Zero calcare, di una scelta coerente con quello che è stato il suo percorso fino a questo punto. E non ha alcun senso inquadrarlo, come è stato fatto in questi giorni, come antisemita e pro Hamas, per una decisione che è descritta come genuinamente e strettamente personale. Fate conto che non lo dico io, anzi vorrei fosse chiaro. Basta leggere le sue di parole, quelle con cui su Instagram ha annunciato la decisione, specificando che non se la sente di partecipare alla fiera quando persone a cui vuole bene, persone che appunto ha conosciuto direttamente, dice, perché è stato personalmente a Gaza anni fa, sono al momento intrappolate nella regione rischiando la vita ogni giorno sotto le bombe di Israele. E aggiungo io, anche sotto quella che sembra essere la tanto annunciata invasione di terra, di cui parliamo nel prossimo blocco. Ma non è tanto qui il tema. Il punto caldo è che, prosegue l'artista, il suo non vorrebbe essere un giudizio morale a nessuno, né a chi alla fiera ci andrà, né a chi si è reso indirettamente responsabile del patrocinio, ovvero gli artisti israeliani che hanno disegnato il poster della fiera, e che quindi, come è normale che succeda, hanno mesi fa ricevuto il benestà del patrocino appunto dell'ambasciata italiana di Israele. Ovviamente qui c'è un discorso da fare su quanto sia possibile per un personaggio come Zero Calcare rinunciare alla partecipazione al più grande evento italiano sul tema, annunciando la cosa in pompa magna, senza polarizzare l'opinione pubblica su una cosa che è già estremamente polarizzata. E la facile risposta è che non è possibile. Ogni sua decisione, anche la partecipazione senza dire nulla, banalmente, sarebbe stata forse intesa come una scelta di campo, almeno per un personaggio con la sua storia, e la sua influenza è testimoniata dal fatto che altri artisti hanno preso posizione, per quanto non sempre la sua. L'ha fatto Le Ortolani, l'ha fatto Fumetti Brutti, l'ha fatto Sio, e ognuna di queste persone ha deciso di fare una cosa diversa, senza contare quelli che non sto citando o che magari non si sono proprio espressi. Ovviamente l'organizzazione della fiera ha deciso di giustificarsi, dicendo di aver deciso di non rinunciare al patrocinio per il rispetto dei partecipanti e delle istituzioni. E ci sta, nel senso, qui è una cosa più grande di chiunque, anche di zero calcare. Realisticamente la sua scelta deluderà migliaia di persone che aspettavano lui, hanno preso i biglietti, la casa, eccetera, e impatterà sull'intera casa editrice, che per quanto dica di supportare la sua scelta, visto il peso del nome, non è che potesse fare altrimenti. Che poi qui è veramente una questione di non sai cosa fare. Qui dove ti muovi pesti una merda, non c'è una situazione in cui te la sfanghi. Qualsiasi cosa fai, supporti zero calcare, oh no, ma allora sei antisemita, non supporti zero calcare, beh, ma allora sei una merda. Non è che ne puoi uscire bene da questa cosa qua. E credo valga per tutti. Io penso che ci sia un clima molto pesante in questo momento, perché non ne puoi uscire bene. È una questione complessa per tutti. Diverso è il caso, invece, della scelta da parte di Amnesty International, che come zero calcare ha comunicato non sarà presente alla fiera del Luca Comics, stavolta però a seguito di una diretta presa di posizione per l'assedio e il bombardamento israeliano nella striscia, che di nuovo è una presa di posizione legittima. Io stesso diserto tantissime collaborazioni ad eventi e non ve lo dico nemmeno, semplicemente perché non si allineano con i miei valori. Però ovviamente se io poi andassi a una roba che è patrocinata dal cremlino, che è patrocinata dal governo cinese, e dicessi, ah che bello sono qui, molti di voi me lo farebbero come minimo notare. Mi direbbero, hey Shai, ma non è ipocrita da parte tua? E cosa dovrei fare? Dovrei andarci allora? Ovviamente per ogni persona alcune battaglie sono più importanti di altre, è evidente. Va da sé che in questo caso la posizione di Amnesty non è personale, non è basata sul dovere avere a che fare con la tua coscienza, ma su premesse differenti, che comunque evaporano al sole quando persone come il ministro Salvini inquadrano il comunicato di Amnesty come razzismo, appiattendo istantaneamente il discorso al nulla più totale. Il punto è però che quel tipo di approfondimento, quando non di equidistanza, è pazzesco lo si chiede ad un artista, la cui opinione è peraltro nota, che non ha alcun tipo di responsabilità di guidare alcunché, e non la si pretende invece dalla politica, che vabbè Salvini è un esempio terribile, ma nemmeno dai miei, perché sono settimane, sono settimane che i giornali, gli intellettuali, non fanno altro che titoloni e robe, cercando di creare una distinzione manichea tra chi è con noi e chi non è contro di noi, quali siano i buoni e quali siano i cattivi. E quel tipo di approfondimento lo dovrebbero fare appunto i media e la politica, non un fumettista, non un artista che ha delle posizioni e che ha degli amici presenti nel conflitto in questo momento, perché è folle, non puoi chiedere a qualcuno al quale non ha appena sparato alla moglie se è d'accordo con la pena di morte, è normale, lo devi chiedere al giudice, lo devi chiedere a una figura che in quel momento rappresenta un qualcosa, non un artista, un artista fa l'artista. Ed è incredibile secondo me mettere questo tipo di responsabilità sulle spalle di qualcuno che non vuole nient'altro che portare avanti dei suoi ideali, essere coerente con se stesso e disegnare dei fumetti. È folle. Vabbè, noi facciamo il nostro di lavoro, quindi devo dirvi che l'ipotesi dell'incursione militare via terra da parte dell'esercito israeliano dentro Gaza, inizialmente molto ambigua ed eterea, sia in qualche modo concretizzata venerdì, quando l'esercito israeliano ha effettivamente iniziato a muovere l'ADF nei territori palestinesi, anche se non nei modi che ci saremmo aspettati. I militari israeliani sono infatti entrati dai confini nord ed est e lo hanno fatto a seguito di un intenso bombardamento su Gaza, e per quanto non si abbiano conferme perché non vengono a raccontarlo a noi, si presume che l'obiettivo sia quello di circondare il territorio partendo proprio da Gaza City e, contestualmente, cercare di individuare i tunnel e i bunker sotterranei utilizzati da mass. Interessante, dicevo, è come si tratti di un'invasione diversa da quella che abbiamo provato a ipotizzare queste settimane, dato che parliamo di una forza militare più agile e lontana dall'occupare e conquistare Gaza in pochissimo tempo, visto che stiamo parlando probabilmente di un'offensiva un po' chirurgica, un po' precisa, una serie di missioni, forse, che dureranno delle settimane, a quanto pare, forse dei mesi. Ad analizzare questa operazione è lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha esplicitamente parlato di una seconda fase del conflitto, più lunga e più difficile, e molti sono scettici dal definire la invasione, quanto più un lento assedio per sconfiggere Hamas gradualmente, cosa che sì, in teoria dovrebbe limitare il coinvolgimento dei civili nel conflitto, con attacchi più mirati, tutto in teoria ovviamente, tutto nella teoria, poi quello che succede sul campo, vabbè, ma in realtà anche strategicamente il rischio è di allungare la sofferenza dei civili palestinesi all'interno di Gaza, che lo ricordiamo sono da giorni e settimane in difficoltà per quanto riguarda cibo, acqua, soprattutto carburante, con gli aiuti umanitari che continuano ad arrivare dal conflitto egiziano, ma che ovviamente non sono esattamente irrisolutivi. Israele non vuole che lo siano, mi sembra di capire. Che è anche un po' il punto, è un po' il tema, quanto effettivamente Israele voglia colpire tutti quanti nel cercare di colpire Hamas e di essere efficiente nel colpire Hamas. Per intenderci, l'inizio delle operazioni via terra da parte di Israele è coinciso con un blackout di 34 ore alle linee di comunicazione nella striscia, con il risultato che tra venerdì sera e domenica mattina Gaza è rimasta isolata, con linee telefoniche e connessioni internet che hanno smesso di funzionare, impedendo alla popolazione, ma anche diversi giornalisti che raccontano il conflitto di utilizzare i telefoni per contattare i propri cari, banalmente chiamare i servizi di emergenza. Tanto che i soccorsi durante quelle ore drammatiche, banalmente le ambulanze, prive di qualsiasi assistenza tecnologica, pare cercassero di localizzare i feriti guardando il fumo degli attacchi o ascoltando il rumore delle esplosioni. Che ci regniamo conto non è ottimale, non sia ottimale e sia un danno che stai facendo principalmente alla popolazione nel cercare di colpire Hamas. Comunicazioni hanno poi ripreso gradualmente a funzionare a partire dalla mattina di domenica, non è chiarissimo perché. Alcuni parlano di pressioni internazionali su Israele affinché mettesse fine a un boicottaggio attuato per complicare i tentativi di disposta e organizzazioni di Hamas. Ma tutto questo non ha fatto altro che peggiorare la crisi umanitaria, tanto che proprio nella giornata di domenica le Nazioni Unite hanno riferito di migliaia di palestinesi, complici il blackout, la conseguente offensiva israeliana, che hanno saccheggiato i magazzini delle Nazioni Unite in cui erano presenti beni e prodotti di prima necessità. Che di nuovo è normale perché voi immaginatevi in un territorio in cui non funziona niente, non potete comunicare con nessuno. Cosa fanno le persone? Sgomitano gli uni con le altre per cercare di prendere qualcosa che permetta loro di sopravvivere. Questo dovrebbe darci la misura di quello che sta accadendo, a prescindere dalle bandierine. Tra l'altro in questo discorso si inserisce anche il buon Elon Musk, che alla luce di quanto accaduto a Gaza ha dichiarato di voler supportare i collegamenti, le comunicazioni tramite il suo sistema Starlink ed evitare quindi che la crisi del popolo palestinese si aggravi ulteriormente. Al momento non è chiaro come effettivamente questo strumento verrà utilizzato e soprattutto come impedire che finisca nelle mani di Hamas, che è la de facto autorità politica della striscia. Motivo per il quale Israele, tramite il suo ministro per le comunicazioni, ha dichiarato che contrasterà in ogni modo la possibilità che questa cosa accada e a cui è fatto seguito la risposta di Musk, che ha ribadito come la connessione di Starlink, verrà utilizzata solo per gli aiuti, tenendo quindi conto anche del governo israeliano e di quello statunitense. Che, di nuovo, è incredibile, non lo dico ancora, però è incredibile che sia un privato che riesca a mettersi in mezzo a un conflitto così grande perché ha uno strumento così forte che in qualche modo sovrasta gli organi nazionali. È pazzesco. Comunque, parallelamente all'offensiva via terra, la macchina della diplomazia continua le sue discussioni sul conflitto, tanto che a New York è stata presentata, dalla Giordania a nome dei paesi arabi, la risoluzione delle Nazioni Unite in cui testo è stato votato dalla maggioranza dei paesi dell'ONU, 125, con 14 contrari e 45 paesi astenuti. E la risoluzione chiedeva sostanzialmente una tregua umanitaria e un conseguente cessate il fuoco, oltre a respingere ogni tentativo di trasferimento della popolazione palestinese dalla striscia. E non sono mancate delle sorprese, perché se sul voto contrario la risoluzione sinceramente non stupisce quello di Stati Uniti e di Israele, sono soprattutto i voti degli astenuti a risultare interessanti, perché troviamo ad esempio la Germania, il Regno Unito, la Polonia, la Slovacchia e l'Italia. Il nostro paese, infatti, ha ritenuto il testo non fosse sufficientemente equilibrato, motivando l'astensione con il fatto che non fossero presenti i riferimenti alla condanna di Hamas e alla difesa dello Stato di Israele. E sono delle giustificazioni che non hanno convinto le opposizioni, a quanto pare che hanno criticato l'astensione. Ma considerate anche che altri paesi dell'Unione hanno invece votato a favore. C'è una grande discontinuità, una grande frammentarietà. La Spagna, il Portogallo, il Belgio, addirittura la Francia. Nel solito queste risoluzioni non sono vincolanti, valgono quello che valgono, ma ci raccontano come il conflitto è percepito nei vari paesi e non c'è un sentimento condiviso. Anzi, come dicevamo all'inizio, è tutto un casino. E l'opinione pubblica nelle varie nazioni è sempre più frammentata, sempre più divisa ogni giorno che passa. Non solo qui. Tante questioni discusse in queste ore, infatti, c'è ad esempio una cosa che è accaduta fuori dall'Unione all'aeroporto di Makashkala, città della Repubblica Federale Russa del Dagestan, che si trova qui. Aeroporto in cui una folla di persone si è radunata intorno a un volo di linea, appena arrivato all'aeroporto da Tel Aviv, per attaccare le persone che erano dentro all'aereo. Le immagini, c'è poco da dire, sono incredibili, dato che si vede una folla di centinaia di persone, anche con bandiere palestinesi, entrare nell'aeroporto e poi circondare l'aeromobile per, appunto, aggredire le persone all'interno. E il tutto pare sia nato all'interno di alcuni gruppi Telegram, dove si incitavano i cittadini nella regione del Dagestan, in prevalenza di fede musulmana, ad andare e chiedere ai passeggeri di condannare quanto sta accadendo a Gaza, con tutta la secola di fake news che ci sono sempre in questi casi, come che dentro l'aereo ci fossero rifugiati ebrei, cosa che poi non era vera. Per fortuna la folla è arrivata troppo tardi, i passeggeri erano già stati fatti scendere e alcune persone sono state identificate e arrestate. Ma, alla fine, anche qui, il discorso ci riporta all'inizio del video, a Luca Comics, alla necessità di doversi esprimere in merito a un conflitto complicatissimo. E in questo caso di farlo pure sotto minaccia, perché non ci sta. Non ci sta a pretenderlo, non ci sta a chiederlo, non ci sta a dare i patentini su chi sia o meno amico dei terroristi. E l'impeto con il quale queste persone sono sciamate dentro un aeroporto, per cercare individui, direi semplicemente di essere su un aereo proveniente da Tel Aviv dovrebbe raccontarci moltissimo del clima che si respira nel mondo religioso arabo, che ovviamente, in quanto religioso, non può che avere posizioni estreme. Però il nostro non è quel mondo lì, e magari noi potremmo evitare di fare la stessa cosa. Dico, eh. Mi rendo conto che affrontare l'argomento clima possa risultare di questi tempi piuttosto pesante, visto che non tutte le notizie, diciamo, quando parliamo di queste tematiche, proiettano un futuro di arcobaleni. Felice e bellissimo. Ma oggi sono qui anche per portare buone notizie, o perlomeno notizie inaspettatamente positive. L'Agenzia Internazionale dell'Energia, infatti, ha pubblicato questo report, il World Energy Outlook 2023, che in sostanza si occupa di effettuare analisi e proiezioni energetiche basate su scenari differenti a livello globale, che tengono ovviamente conto delle attuali condizioni del pianeta. Ecco, secondo i calcoli e le previsioni, il sistema energetico globale cambierà in meglio già a partire dalla fine di questo decennio, tanto che la transizione verso l'energia pulita sarebbe un processo che, secondo il direttore esecutivo dell'Agenzia Fifth Byron, cito testualmente le sue parole, sarebbe ormai un processo inarrestabile, tanto che non si tratterebbe più di se questa transizione sarà completata, ma di quando. Il report, che vi metto in descrizione ovviamente non contiene solo questa singola informazione, si dilunga su tantissimi aspetti e alcuni di questi sono molto interessanti. Ad esempio si discute tantissimo della questione dei combustibili fossili, perché previsto che il loro consumo, mi riferisco al gas naturale, al petrolio e al carbone, benché continuerà ad aumentare nei prossimi anni, e su questo pare dovremmo metterci l'anima in pace, dovrebbe raggiungere il picco massimo nel 2030, per poi iniziare a decrescere. I grafici, questo è evidente soprattutto per quello che riguarda il consumo del carbone, che va letteralmente a picco, mentre petrolio e gas decrescono più lentamente. E ovviamente un consumo più basso di combustibili fossili significa anche calo degli investimenti nel settore, che in ogni scenario rappresentato scendono sensibilmente fino anche al 2050, e questo a favore soprattutto della cosiddetta energia pulita. Buone notizie però non arrivano solo dai combustibili fossili, ma anche per quanto riguarda le energie rinnovabili, dato che da qui al 2030 queste dovrebbero aumentare di pari passo con un previsto avanzamento dell'efficienza energetica. Il 2030 è domani, e il tutto a discapito delle fonti inquinanti come il metano, le emissioni diminuiranno sempre entro il 2030 del 75%. Che di nuovo è un'ottima notizia se evitiamo di farci saltare per aria, perché poi c'è quel discorso lì, no? Se evitiamo di infilarci in una guerra globale, nella terza guerra mondiale, queste proiezioni ci porteranno in una situazione migliore di quella attuale, se non ci facciamo saltare per aria. Il tema delle rinnovabili è probabilmente uno dei più interessanti del report, dato che non solo si ipotizza che le vendite delle auto elettriche aumenteranno parecchio, passando dai quasi 14 milioni di adesso a 40 milioni di auto vendute, e questo non è nemmeno lo scenario migliore, ma ad aumentare le vendite ci saranno anche le pompe di calore elettriche o a energia rinnovabile, che incrementeranno di molto la loro diffusione a discapito di quelle alimentate con i combustibili fossili, che sono notoriamente anche quelle a questo punto più onerose, più inefficienti. C'è anche un discorso di convincere le persone a un certo punto a cambiare, a fare lo switch, o a renderle loro disponibili queste tecnologie, perché poi non parliamo solo dell'Italia, c'è sempre quel punto, il mondo non è l'Italia, e quindi un sacco di persone si riscaldano bruciando le cose, per dire. Questo processo, descritto appunto come inarrestabile, non significa ovviamente che avverrà a prescindere da tutto, e anzi, per avvenire il prima possibile, necessita del supporto di tanti attori, dai governi, alle aziende, agli investitori, ed è ad esempio significativo come nel report venga dato molto spazio, tra i diversi stati del mondo, alla Cina, dato che l'espansione e crescita del paese asiatico negli ultimi decenni non solo ha modificato gli equilibri dei mercati globali, ma ha contribuito ad aumentare la domanda energetica globale, che si può riflettuta sulle emissioni di CO2, per un aumento totale che, semplificando un po', è quantificato essere stato, nell'ultimo decennio, di circa l'85%. Fate conto che in questo senso la Cina, alla metà di questo decennio, dovrebbe raggiungere il picco massimo di domanda totale di energia, e questo si dovrebbe tradurre in una domanda inizialmente più stabile e poi in leggero calo, che si rifletterà anche sui combustibili fossili, che subirebbero a quel punto un drastico calo di domanda, favorendo contemporaneamente una riduzione delle emissioni e la crescita di energia pulita. Letto del fatto che finora vi ho dato diverse buone notizie in previsione di un futuro che sembrerebbe più rosio, devo però necessariamente riportarvi alla realtà delle cose, perché ad oggi la domanda dei combustibili fossili è comunque ancora troppo alta per poter limitare l'aumento delle temperature globali di un grado e mezzo, il famoso grado e mezzo, no? Il che significa che nonostante tutto, l'energia pulita, la transizione e quant'altro, ad oggi non sembra riusciremo ad impedire alle temperature globali di salire fino a 2.4 gradi centigradi nel corso di questo secolo, un cambiamento che realisticamente, come sapete, userà una serie di gravi problemi a catena di cui dovremmo a un certo punto farci carico. Insomma, se da una parte gli scenari del report ci danno un sospiro di sollievo e ci indicano come è possibile che la situazione del nostro pianeta non sia compromessa nei prossimi decenni, è vero anche che per ottenere e raggiungere dei risultati concreti, in ottica climatica, è necessario che tutti collaborino e siano in qualche modo orientati a perseguire quell'obiettivo, non solo per ragioni politiche, attenzione, se ad esempio abbiamo visto come la transizione ecologica non sia semplice per il Regno Unito, che qualche settimana fa, nelle parole del primo ministro Sunak, ha fatto marcia indietro sul clima, sapete qual è il migliore ostacolo che gli esseri umani possono porsi tra qui e la cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi climatici? è la guerra, è la guerra, cioè se noi facciamo la terza guerra mondiale, se noi combattiamo tutto il tempo e usiamo le risorse che utilizzeremo per efficientare i processi, invece per costruire armamenti e lanciarci le bombe addosso, e lì c'è una grossa frenata, ma magari anche soltanto un paio d'anni possono significare decenni di frenata in questo senso, questa roba è imprevedibile, i report non la possono prevedere, noi guardiamo le proiezioni per come stanno le cose adesso, però con un po' di fantasia ci rendiamo conto che magari le cose, però non lo so, però non lo so, basta, questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato, vi ricordo che potete sostenere il nostro lavoro tramite il nostro sistema di abbonamento che si chiama Breaking Italy Club, link in descrizione, oppure le grafiche in questo momento, oppure andando su BreakingItaly.club, era tutto, fate le brave e fate i bravi, e noi ci vediamo domani.